Oggi e domani è una ricorrenza molto importante per la nostra azienda Voi sapete tutti che cosa ha significato Demetra per l'umanità Fino ad oggi la Demetra ci ha dato la possibilità di vivere, di progredire, di prosperare Perché è sempre così? Perché l'ha fatto gli sperimenti Ah, lo so E oltre a lui quanti? Quanti, quanti cazzo dei lascianti? Io sono resistente alla manca c'è I cari dobbiamo fargli saltare il culo Dobbiamo fargli saltare il culo Come intendo? Strammolette le mie mani, hai capito? Succederà mai, non è mai successo, non succederà mai Questa è l'intervata Io non ho mai avuto Se tu i bambini sono morti è perché voi siate amici Io non sono l'antassina 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 E io E io E io E io E io La figlia li portavo negli studi della Demetra E sentivo i loro piatti E ancora gli sogno di fare notte La mamma e faccia Ha figlie e figli E non rinnega nessuno Anch'io ti voglio bene Ma tu stai cercando di distruggere Tutto quello che noi abbiamo cercato di costruire Ok, sì, sì Mi divertivo un po' Sì Ti divertivi un po'? Questa è la Demetra Uomini calpestati Non c'è